Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro decimo appuntamento dedicato ai Cavaliere dello Zodiaco grazie a voi, alle vostre richieste e al vostro supporto. Il video di oggi è dedicato a un Cavaliere abbastanza richiesto e le persone che ci hanno fatto richiesta sono Laura Libra Pezzella, Max Giorgi e Fabio De Riso e quindi sì ragazzi è il Cavaliere di oggi di cui mostreremo anche ben due action figure, altri non è che Doco di Libra. La versione che vedete qua è un original non della Bandai però originale con tanto di basetta dove attaccare il personaggino e il nome del segno, vedete Libra che sarebbe il nome latino di Bilancia, quindi qui Masami Columada ha un po' confuso il greco con il latino. E questa è molto dettagliata perché se vedete bene la faccina ha proprio i caratteri, cioè i disegni alla Cinguaraki con questi occhioni grandi verdi che ricordano Andrea Di Redi Oscar, non a caso perché fu lo stesso sceneggiatore. inoltre ha le armi, le dodici armi di Libra, come vedete ci sono i due scudi, le due clavette, queste penso che siano le due spade attaccate qui e in mano conserva il suo elmo. Ora vedete bene il action figure, essendo esposta anche un pochino al sole, ha una sbiancatura sulla parte superiore per quanto concerne le spadiere, mentre sotto le gambe sono rimaste di un bel dorato. Ora questo problema della sbiancatura è tipico dei collezionisti perché tutti noi tendiamo a mettere in benedette e non ci accorgiamo per quanta attenzione facciamo se quando il sole vi va a sbattere. Allora come fare però in caso di una golden armor trasformata in una omino bianco armor? Semplice, prendete un piattino di plastica piccolo, ok? Qual è lì? La cucina. E un uniposca dorato. Ora non è per pubblicizzare la marca, va bene anche un altro similare, comunque questo è il modello, il colore. Lo dovete agitare il più possibile, aprire e sbatterlo puntinando sulla superficie del piattino di plastica in modo tale che le gocce che verranno giù, perché la basetta è sostanzialmente in stoffa, ok? Quindi è imbottita di colore, le gocce che verranno giù si possano raccogliere sul piatto e formare una sorta di tempera, ok? Una sorta di colore liquido, uniposca liquido. A quel punto con un pennellino il più sottile che potete trovare, vi garantisco ragazzi che si trovano, negli stessi posti dove trovate anche uniposca, passate il pennellino su tutta la figura delicatamente laddove ovviamente c'è bisogno e lo lasciate asciugare, fate anche 24 ore. Non al sole, quindi ragazzi non vi dico in frigo, perché sennò prendono odore tutti i cibi, anche se sarebbe il top il frigo, fatelo asciugare in un posto asciutto e lontano dalle fonti di calore, quindi non sulla macchina del gas, non in cucina, ok? Un armadio magari dove non tenete tante cose, 24 ore. Dopodiché lo estraete ed è come nuovo. Certo non è un toccasana, col tempo anche l'uniposca sbeadirà, però ci abbiamo almeno provato. E questa è la nostra prima action figure. La seconda, sapete che io sono una grande fan di cibi, cibi! Quindi il piccolino, col tempietto, il piccolino Doco di Libra, sì perché il suo nome non è messo di cinque picchi come fanno credere nella serie classica, si chiama Doco, ha il suo nome. Eccolo qua, vedete, ho pure l'occhiolino perché ce lo dico io perché ce lo fa, ho fregato tutti questo qui. E la action figure, quindi a cibi, è sempre del gruppo classico che avete già visto anche con altre figure, potete ritornare i video in playlist, per esempio Saga dei Gemelli per dire un nome. E detto questo passiamo ora alla biografia del personaggio. Doco emerge come personaggio contrariamente a quanto alcuni colleghi youtuber sostengono perché non è che io voglio andare contro nessuno, però vi è il collega di Meet Cloth Chronology che è bravissimo, ha delle action figo straordinari, però lui avanza una teoria, secondo me fallace, mi piacerebbe anche se magari mi risponde così, magari possiamo interagire anche tra youtuber, sapete che figata che sarebbe, dove lui mi dice che secondo lui da giovane Doco avrebbe avuto l'armatura del dragone. No, è una teoria errata ed è dimostrato qui in Senseiian's Dimension, che è il manga di più recente produzione, che si è affermato, stiamo tutti aspettando da anni il volume 14, Masami se lo fai per favore avvertici. E qua analizziamo tutti quei buchi di drama che ci sono stati nella serie normale, ok? Nella serie che tutti ne conosciamo, dalle 12 casa dalle. Tra questi buchi di drama, ovviamente, vi è anche la storia dei 12 Gold Saints, antecedente, quindi nel passato, antecedente non solo la serie classica, ma anche lo scambas, ecco qui per esempio, guardate che bel poster di Doco, perché alla fine ci sono le tavole di personaggi in Next Dimension, qualcosa di straordinario, Next Dimension che è disponibile sia con la copertina nera, perché mi piaceva così, perfetta, sia con la copertina dorata, a seconda di chi tieni, vengo per gli Spencer, vengo per i Gold Saints, io ho fatto un mix, così intengo per nessuno delle due. E in questo volumetto c'è proprio l'emersione dal nulla, sia di Sion della rete che di Doco, che sono giovanissimi, tra l'altro avete visto i colori, cioè dopo qui i capelli neri, qua c'è la Castani, perché non si sa, c'è sempre questo cambiamento tra il manga e l'anime, di colore, è giovane, avrà, sì e no, vent'anni, non è assolutamente di carattere, l'uomo che poi tutti conosceremo come Maestro i Cinque Picchi, quindi l'uomo che incarna la giustizia e la saggezza, sì perché l'armatura della bilancia, anche effettivamente nell'astrologia classica, incarna la giustizia. Lui non è così da ragazzino, è un'attacca briga, perché in effetti si vista un po' così, tanto per vedere l'effetto che fa con Sion. Poi, già che c'era, incontra anche qui, come sarà poi in Los Gambas, per strada, Temma, che gli si attacca con una cozza a patella a tellina, e quindi lo pista pure a lui, non contento, beccato di spettere, pista a tutto, ma buon il tuo quartiere, dai. Tra questi però vi è il Saint, un po' a parte, sarebbe un cavaliere d'argento, ma che è classificata, un NC, ok, che è Crateris, Crateris, secondo me sarebbe stato benissimo come cavaliere dell'acquario, ha una brocca, una brocca piena d'acqua, in cui chi si specchia vedrà il proprio futuro. E lì, Sion si specchia, se vede grande sacerdote di più a mezzo di farto, anche perché, raga, visto e considerato che ne fanno i grandi sacerdoti, grazie, ma non grazie. E dopo si vede come il maestro cinque picchi, e si fa schifo da solo, non sapendo però che poi effettivamente sarebbero diventati l'uno grande sacerdote e l'altro maestro cinque picchi. Questo è il next dimension, quindi lui è chiasso, rissoso, ragazzino, rompiscatole. E' presente anche in episodio G, ma, ragazzi, episodio G, episodio G, è una serie G, proprio G, perché vorrebbe analizzare le adolescenze dei Cold Saints, a me fa vedere un branco di stuzzicadenti, pseudo esperti di arti marziali, che... perché? Perché fanno tante cose, non si sa. Doco di Libra è un ologramma, praticamente, ogni tanto appare da nulla, perché in teoria la sua armatura ha 12 anni, che è 12, per 12 segni giudicati, quindi una per ogni suo collega Cold Saint. Ma lui ha il compito di giudicare i Cold Saint e dare loro, solo se degni, solo se è capace di usarle, l'arma giusta. Ok? Cosa che in episodio G non fa perché appare FUM! Cioè la strange, PUM! Te do l'arma e vai. Quindi questo in episodio G è un po' una forzatura, a mio avviso. Nella serie classica, quindi, lui è anziano, è noto come maestro dei cinque picchi, infatti nell'adattamento italiano non lo conosceremo mai come doco di Libra, anzi, non lo conosciamo proprio come Libra, finché Death Musk non va a sfidarlo proprio alla cascata in Cina, perché lui è cinese, ragazzi, e abita in Cina, la casetta in Cina, sta in Cina, alla cascata dei cinque picchi, ci va il cavaliere d'oro del cancro per eliminarlo, perché ha ritenuto un avversario di Harles, perché sapeva troppo, di fatto lui ha sui 263 anni, quindi effettivamente sa un sacco di cose, effettivamente è scomodo, e non aveva mai detto a nessuno, per la serie che si fa i fatti suoi, campa a 263 anni, che lui era il cavaliere d'oro della bilancia, tutti lo credevano scomparso, invece, e questo è un occhialino che lo ti fa, son vivo e begeto, ok, sta lì e viene chiamato col suo nome cavaliere di Libra, da Death Musk, nella versione originale, e lì gli fa tutta una storia sulla giustizia, l'ingiustizia, discutendo con lui, tra l'altro, gli dà anche dello stolto, cosa che fa molto incazzare Death Musk, ma stolto è una parola che gli piace, perché poi tornerà pure la tutela anche con altri, tra l'altro, lui mette proprio questa frase, dicendo l'ingiustizia non potrà mai tramutarsi in una cosa giusta, proprio perché voleva contrastare il pensiero opportunista di Death Musk, nella serie lui non combatte mai, nella serie classica, tra l'altro se l'ha fatto pure i fatti suoi, la storia grande, perché sapeva anche tutta la verità di Saga, che aveva ucciso Sion, che era un traditore, tutto quello che vogliamo, se l'ha fatto i fatti suoi, quindi vabbè, non combatte mai, al massimo, sia nella serie del grande tempio, che Nettuno manda la sua armatura affinché gli altri riusino male armi, sceglietele voi per cambiare via da lì, e l'unica cosa che fa è salvare i fiori di luna, i fiori di luna è la sua Shurei, nella versione originale, figlia adottiva, perché in Cina c'era, e mi vuole dirlo in alcuni villaggi ancora c'era l'usanza brutta, di abbandonare le figlie femmine, perché ritenute non adatte alla coltivazione dei campi, quindi Shurei aveva subito questa sorte, era una trovatella, lui la prende e la cresce, perché comunque fin dallo Scambas, quando lui addestra al suo malgrado Thelma, si vede che questo cavaliere è molto paterno, anche con Sirio, non ha un rapporto maestro allievo, non è un camus dell'acquario, di cui abbiamo fatto il video, che non avrebbe ucciso Crystal se non diventava perfetto, lui è molto più paterno, gli vuole bene, gli cresce insieme, ogni tanto prende anche in giro i ragazzi, insomma, è un padre di famiglia, su questo bisogna ammettere che è l'unico, forse a parte, ecco sì, se vogliamo dire lo stesso Sion, lui è l'unico che è molto paterno in Senseia, ok? E è una dote che passerà anche a Sirio, perché infatti proprio Sirio e Shurei si staranno insieme alla fine e avranno in Omega il figlio, quindi proprio questo discorso della paternità, della famiglia, l'ha riuscito molto a trasmettere ai suoi allievi, ma non a tutti, perché dobbiamo ricordare che c'è un personaggio filler di nome Demetrios, che appare filler, quindi solo nella serie animata, il quale era il cavaliere della tigre, perché l'hanno inserito lì? Per fare più episodi, sicuramente per vendere più pupazzetti anche, ma soprattutto perché riprendono lo scontro classico tra la tigre e il Dragone, su cui ci sono tante leggende cinesi, vi è anche uscito il film alla fine degli anni 90, proprio la tigre e il dragone si intitolava, e quindi fanno vedere questo scontro, dove Demetrios è cattivo, lui lo scaccia via, ma un po' lui da grande ritorna, quando Sirio era cieco, gli vorrà fare un mazzo tanto, ma alla fine lascia perdere, ok? Accettando anche il fatto di non essere degno dell'armatura, poi di bronzo, non sappiamo anche come c'era quella d'oro, ma la verità ragazzi è che la tigre c'è, la tigre c'è come? E la tigre anziana non voleva far rubare la scena, a mio avviso, da quella giovane, perché il signorino Doko, vi ricordate che Sirio ha un tatuaggio del dragone che gli copre tutta la schiena, fichissimo, una cosa straordinaria, quello ho ancora sogno di farmelo, bello, no? Solo che proprio sulla manina le indica il cuore, cacchio di tatuaggio, proprio il punto dove mi fa male, eh? Ecco, questo lo fa il tatuaggio, il signorino Doko, zitto zitto perché c'è sempre questi straccetti addosso, no? Così tutto, c'ha la tigre, a capoccia della tigre, quindi è lui la tigre, ok? La tigre e il dragone, ci sono, ma non si è mai visto finché poi non succedrà qualcosa, quindi lui ha questo tatuaggio, tra l'altro una cosa che non capisco, se il cavaliere d'oro della bilancia, c'ha i dodici armi, c'ha il tatuaggio della tigre e il suo colpo è one hundred dragon's force, cioè la forza dei cento draghi, regà, ma qui qualcuno gli ha dato un addestramento un po' confuso a sto parovisto, che ci azzecca? No, ma veramente, è come se il cavaliere d'oro scorpione anziché pizzicare la gente, gli sputa, il lama, regà, ma che? O il sagittario invece di tirare la freccia, no, mi piacete più il bastone, faccio tonaterno delle tartabuche ninja, vabbè, gli hanno confuso le idee a sto voraccio, ve lo dico io, gli hanno confuso le dette, quindi tornando a la sua vita, quindi sappiamo nella serie classica che la fa così, però ecco salvava a fiore di luna, abbiamo detto, shura che dir si voglia, quando, quando death mask, da lontano l'aveva scagliata nella cascata per farla morire, perché lei pregava per Sirio e lo infastidiva, e in quel caso, usando il cosmo, il maestro l'ha tirata su dalle acque, e usando la telepatia, quindi se anche telepatico, maledetto, quindi potevi aiutare di più i bronzini, fetente, tu e il tuo silenzio, e non aggiungo altro, lui l'ha salvata e gli ha detto a Sirio apposto, tutto apposto, bello ce l'ho io qua, ok. In Lo Scambas lo vediamo un po' più grande, sia rispetto a Episod G, che è una via di mezzo, sia rispetto a Next Dimension, però pur essendo un pochino più grande, anche qui, lui incontra per caso Temma, quindi la stessa cosa di Next Dimension, che gli si attacca come Cozza Paterra Tellina, decide di addestrarlo, ne fa pure un buon cavaliere, è amico, principalmente del Cavaliere del Toro, ma anche poi molto amico di Sion, della Riete, infatti c'è l'errore nella canzone di Trick or Treat, che è bellissima, One Hundred Dragon's Force, è qualcosa di straordinario, soprattutto con l'inizio, dove c'è un violino, suonato da una donna, ragazzi, una bellissima violinista, che proprio suona una melodia cinese, che si sente anche in alcuni locali tipici cinesi, se voi frequentate, e io e Lo Zucco spesso siamo in uno, vi spediamo a trovarci qui a Roma, perché almeno una volta a settimana andiamo in un locale cinese, perché ci piace tanto, cino-giapponese, e ci potete trovare lì. E questa canzone è qualcosa di bello, ma nel testo, ragazzi, mi dispiace dirvelo, cioè è un errore, perché lui dice I was the only survivor, cioè io fui l'unico sopravvissuto, non è vero, perché c'è anche Sion della Riete, quindi è un errore. Ma è un errore che credo che Trick or Treat hanno fatto semplicemente perché non hanno conosciuto appieno lo scambas, non hanno conosciuto appieno la serie, perché altrimenti saprebbero come sono andate le cose. Nella serie classica, per effetti, viene detto che era lui l'unico sopravvissuto, un errore dato da una svista, quindi. E lui, per chi ha seguito solo l'anime, nell'episodio 26 sembra morire quando si sacrifica per far scappare Sion, Yuzuriya e Temma stesso. E quindi tutti dicono, oddio, è morto Dogo, raga, ma che sarà di se lo avete visto anziano nella serie normale, nella serie classica? Oh, ma che bevia? Non è morto lì, è la serie che si è interrotta lì, chiedetelo agli sceneggiatori perché che cosa gli è preso, perché non è mai stata terminata. Nel manga, per chi l'ha letto lo sa, per chi non l'avesse letto ve lo dico io, va avanti, non solo sopravvive, quindi pepepepepepe, altra burla, perché lui è burlone, non è morto, ma addirittura, mischiando il suo sangue a quello della dea, lo ottiene il mesapetamenos, non me lo fate ripetere perché è una bestemmia, ok? Questa parola qui indica un incantesimo, prendiamolo così perché non ho un altro modo per dirlo, per cui il cuore del cavaliere batte in un anno 100.000 battiti, 100.000 battiti sono super gioco quello che si fa in un giorno, quindi lui resta surgelato apparentemente invecchia, ma in realtà è surgelato all'età di 20-30 anni, l'età che aveva alla fine di Roskambas, che non è chiarita, per questo dico tra i 20-30, sicuramente più grande di Next Dimension, sicuramente più grande di Risorgì, e resta lì suggerito davanti ai 5 picchi, perché? Infatti molti ce lo siamo chiesti, perché? Perché? Perché sta sempre di questo? Perché? C'è un motivo, noi vediamo solo 5 picchi, ma non sappiamo che in realtà una volta lì non c'era nessuna cascata e nessun 5 picchi, quelle sono le macerie della torre di Ade, della lotta del 1700 di Roskambas, e il sigillo di Ateneo, è una riblocca lì, quindi lui deve stare lì davanti, se tante volte Ade facesse capoccella dicesse tutto a posto, ecco, se Ade fa capoccella gliela deve staccare, ecco perché lui sta lì, mentre sì è una stava al santuario per ricreare i 12 polsilenzi. In Ades finalmente, per chi l'ha seguita la serie, lo vediamo che si è alzato dai 5 picchi, perché in effetti è che cretino Ade, ha visto che sta là, no? Cioè, Ade ha direttamente attaccato il santuario, travisando le menti, facendo corrompere, poi era una burla, ma vabbè, e alcuni col sense si sono presentati direttamente al santuario, quindi lui alza il posteriore da sta benedetta cascata e va in Grecia, non si sa come, improvvisamente si è teletrasportato questo, vabbè, e tanto per fare incazzare un po' Sion, che vorrei fare tutto a umma a umma, faccio sapere che sto qui, va e appiccia la meridiana, appiccia la meridiana, quindi tutti e 12 segni si accendono, quindi tutti, tutti quelli del santuario, i bronzini, le guardie, quelli d'argento, tutti, le sacerdote, tutti, pure da lontano, vedono che c'è un problema grave al grande tempio, alla faccia della burla, alla faccia dell'omertà, alla faccia del faccio tutto a umma a umma, Sion si incazza, io pure mi dico, ma dai, ma chi è sto credino che ha acceso, e lui che ti va lì, ritacchiando, perché sappiamo che è un gran burlone, e ti dice, non stato io, iiii, cioè, io se ero un Sion, calcio in bocca che ti faccio decollare, cioè, perché l'ha riconosciuto subito chi era, e davanti agli occhi di Sirio, che era cieco di nuovo, quindi mi dovete dire come è stato a vederlo, ma vabbè, lui ringiovanisce, cioè si spacca tutta la sua pelle, e lui esce fuori, giovane, corta ruaggio della tigre, che finalmente si vede, ruggisce pure sto tre guaccio, regà, e bono da paura, quindi ecco perché qui sta così, perché Sirio, pensavi di avermi fatto già la cassa, e invece no, quindi, questa è la burla, un po' si meno di nuovo con Sion, poi accetta le sue ragioni, e andrà ad Atena, ma è troppo tardi, sappiamo cosa succede ad Atena, perché abbiamo già realizzato anche il video su di lei, e si ritroverà nel regno degli inferi, dove aiuterà gli altri a battere il muro del pianto, dopo aver dato dello stolto a sciacca della Vergine, ora, non me ne vogliano gli sciacchisti, non me ne vogliano le persone del segno della Vergine, non me ne voglia nessun fan di Senseia, ma quando io ho sentito lui, che per la prima volta, l'unico, che gli ha detto, quel presuntuoso, perché dai, il presuntuoso della Vergine, stolto, dieci minuti di paradiso ho sentito, finalmente qualcuno lo rimette al posto, sulle cose, c'è pure l'estima sto stranito, però, sì, cioè, ditegli sempre così, perché ci vuole qualcuno che gli ricordi che è, alla fine, un po' retto pure lui, perché ti si è fatto sconfiggere, come non si sa che cosa, cioè a momenti pure Andromeda lo mi stava, non ce lo scordiamo, quindi, comunque prossimamente per tutti i fan di sciacca faremo anche il video su di lui, non vi arrabbiate, sono solo opinioni, non voglio scatenare nessuna guerra, però a me, quando è stato chiamato, stolto, pure troppo poco, per cui è lo che penso io, abbatteranno tutti insieme il suo modo del pianto, lui morirà, ma ritorna in Soul of Gold, in Soul of Gold, in cui è l'unico che non si toglie mai la matura, non si capisce perché, e dice che si sente molto vivo, sì, perché dopo quasi 300 anni che ha campato, ti fa essere vivo il fatto che sei risolto, no, perché beve, va al pub con Toro, di cui è ancora molto amico, alla fine lui si farà catturare come un qualsiasi, qua, 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 da Ligdrasil, quindi finisce lui che aveva un sacco di esperienza catturato e subito dall'albero, e ritornerà alla fine per dare insieme al collega del Toro il colpo di grazia, appunto, con tutti i dodici consensi che accoppia i danni colpi di grazia all'occhi e quindi vincere il nemico. Con questo ragazzi per oggi è tutto, io vi saluto, come sempre vi invito a iscrivervi, attivare la campanellina e soprattutto commentate questo video per chiedermi altri cavalieri e vi auguro anche una buona estate. Ciao!